Quando si saprà chi va in mano il Porto Vecchio? A giugno. A giugno? Sì. Cioè a giugno? A giugno. Ma cosa intende però? Chi compra tutto? Sì? Cioè adesso? Adesso. La prossima settimana vengono qua, l'incontro, insieme con l'assessore Bertoli, naturalmente, Everest, Bertoli, e credo che ormai, insomma, a fine maggio, per cui entro giugno probabilmente chiudiamo. Settimana scorsa abbiamo fatto qui una piccola lezione, diciamo, base sulla famosa cabina via. La prossima settimana ci sarà la conferenza di servizi. Cos'è la conferenza? E secondo lei si superano questi punti? Avremo ingegneri, architetti, giuristi, eccetera, che diranno quello che si può fare e quello non si può fare. Io sono il primo a dire, l'ho detto prima, ho sempre fatto le cose come da legge. La stessa cosa faremo adesso. Si può fare? Si fa. Non si può fare? Non si fa. Secondo la mia opinione, cari concittadini, è una grandissima opportunità per la città. Sulla terapeutica novità? Io gli ho chiedo sempre. La prossima settimana inizia la demolizione. La demolizione. Ha vinto la stessa ditta che ha demolito la ghiaia di gente molto seria. La Tripkovic. Quella che ha demolito la Tripkovic. Ha vinto la gara, per cui è gente molto seria che andrà all'attacco bene. I titoli, no? Allora si chiama Napoli, New York, regia di Gabriele Salvatore. Allora uno dice, ma sindaco, cosa ci porta alla nostra città a girare un film a Trieste? Innanzitutto porta l'immagine della nostra città in giro per il mondo. Secondo, 3-400 persone che vivono negli alberghi, che mangiano, che girano, che si divertono a Trieste. Oggi ho parlato con Film Commission, rimane un milione e sette sul territorio, un milione e sette, pensa. E poi l'immagine della nostra città.